E' sempre su YouTube però ci sono altre cose E prima di andare via faccio vedere una cosa cosa c'è qua BAM! Pieno! BAM! Aspetta che ce la faccio? BAM! Pieno! Tanta roba vero? Tanta 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 Musica 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 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Episodio di Impact Flux Allora, sono andato un po' in giro Ho trovato un bel po' di smeraldi Pochi, ma sostanzialmente abbastanza E ho trovato anche queste robe finalmente, le spiresleaf Lasciate stare che è stata Una cosa tremenda trovarli Ho un bel po' di bomb meal E adesso ci andiamo a craftare un bel po' di questi bellissimi Cosi, perché ricordate che dobbiamo fare la missione Quindi yeah, perché no Facciamoci la missione, devo stare a metterli qua Farli crescere più che posso Che bello quando escono i cuoricini, perché Sostanzialmente siete felici che escono i cuoricini, vero? Dai che siete felici Ma siamo tipo un fottio di questi Oh, nemmeno un fottio sinceramente Tipo Boh, tanti Su quello non ci sono dubbi, però non tantissimi Ok E mi serviranno anche Ehm I tomato Perché dobbiamo farci gli spaghetti Quindi apri il tomato Prendiamo Ok, facciamoci un paio di questi Ok Arriviamo che ne so A una trentina più o meno E E Come vedete Così possiamo completare Una quest Per quanto riguarda la harvestcraft Perché Giustamente Dobbiamo finirla Al più presto possibile Quindi perché no Finiamola Ok, facciamo così Finiamo il bomb meal E poi Pochi se ne frega Ok Poi tanto Tipo ne ho un casino di bomb meal Ok Perfetto E ci facciamo Uno, due, tre, quattro Tomato Tomato Tanti tomato Ok Andiamo a vedere un attimo Quanta roba abbiamo qui dentro Andiamoci a fare questi benedetti spaghetti Spagetti 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 fatti Ho bisogno Allora, tomato Quanti ne ho? Tutto quelli Tomato Ehm 27 Ok, ce la faccio Spagetti mi servono Che cosa? Mi serve questa qua La pasta Giustamente Mi serve il burro Eh, il burro che io non ho Perché mi serve un bel po' di questa roba Ah, è vero Mi serve il tofu A proposito, qui sotto c'è un sacco di tofu Eccolo qua Babababam Ok, burro Ho burro oppure sono Baglio Scusa, non si faceva anche con il latte? No, ok Forza con il second tofu Ok, un bel po' di burro Opla Dovrebbe bastare E adesso facciamo gli spaghetti Spagetti Tipo quanto ne stavano? 14 Sono un baglio Comunque qualcosa giù di lì E fatto quello Possiamo andare a fare quella dopo Perché tanto In teoria è la stessa cosa Cioè, continua E quindi spagetti E poi spagetti In meat and balls Quindi spagetti Poi sarebbe In meat and balls sarebbero In spaghetti con Ehm Come si chiamano? Le polpette? Penso di sì Dovrebbe essere Comunque spagetti Che poi Perché spagetti? Perché? Vabbè Un bel po' di pasta Perfetto 20 pasta Va benissimo Abbiamo un paio di questi Mi ne esavano 14 Mi hanno detto quindi Yeah 14 Ok 13 14 Bam Fatti E ok Ah no 16 mi ne esavano Ops Colpa mia 1 e 2 Ottimo E abbiamo Tutto necessario Giusto? Yeah Adesso si sa In meat and balls E quindi spagetti In meat and balls Si fanno probabilmente O col tofu Che Generalmente dovrebbe fare Dovrebbe essere al posto Delle stick Quindi tofu Vediamo un po' Un pezzo di tofu Che sostanzialmente Non ci basterà mai Però abbiamo Della carne Stick Inserano delle Bistecche Potremmo Uccidere Bistecche di mucca Sinceramente Me ne esavano quante 16 sempre 16 Ok Quindi ho bisogno Di 16 bistecche di mucca Che forse ho Vediamo un attimo Se sono fortunato Ce l'ho 13 Ok Ne ho Abbastanza E forse Ho qualche bistecca Così messa a caso Lì dentro A proposito Voglio vedere Anche un'altra cosa Ho scoperto Che c'è un cheat Se noi mangiamo Tante blueberry A meno 12 Sostanzialmente Citiamo Sì Abbastanza E non esistono Le stick Come si fanno Queste Si fanno Con le beef Giusto beef Ok ce ne abbiamo due Perfetto Stavo dicendo Scusate citiamo Perché sostanzialmente Lui vede come Se abbiamo mangiato 12 volte Lo stesso tipo di cibo E quindi Yeah Che figata Pazzesca Abbastanza Abbastanza Ok Mi si vedranno Queste stick E Tadam Opla Finito finalmente Ok Spagetti pronti Possiamo recuperare Che cosa Io direi French toast Ok Ed è questo pronto Perfetto Poi si servirà La baby water E anche L'altro tofu Che mi servirà Però non c'è abbastanza La cosa Adesso per fare il tofu Anche perché Mi serve del Silken tofu Tipo Ok mi serve del tofu Quello non ci sono dubbi Altrimenti Questo tofu si fa Sprezzamente mettendo Il silken dentro Vero Giusto Penso di si E Questa roba La possiamo mettere Qui dentro Anche la pizza Ho preso Altre pizza Ho preso Buono Ok si Infatti Film tofu Quindi mi servirà Comunque tantissimo tofu Da mettere lì dentro E far le cose belle Ok Questo possiamo buttare Questo possiamo buttare Allora Fatto questo Sapete cosa voglio fare Anche Oltre a questi Fruit salad Che probabilmente Riesco a fare Anche Quindi tipo Yeah Fruit salad Abbastanza semplici Ah A proposito Un'altra cosa voglio fare E che ho già preparato È il security system Ricordate che L'ho detto già da un po' Che dovevo fare il security system Allora lo facciamo Arrivo comunque Ok dicevo Dobbiamo farci quel security system E mi servirà a fare Cosa da Da 16k Ora abbiamo tutto necessario Per poter fare due di questi Cioè due Perché anche perché Uno l'ho già fatto In off camera E tadan Yeah 16k pronto E dovrebbe avere tutto necessario Oh Eccolo qua Security system Ora In teoria dovrebbe Essere possibile Completare Questa parte Di questa Me ne ho fatto una parte Dovrei stare a biometric card Che dovrei mettere qui dentro Sperando adesso che funziona E che non mi dà problemi Perché giustamente È bucata tutto quanto È bucata tutto quanto Ok Dovrebbe poter andare qui sopra Giusto Sembra di sì Quindi dovrei fare i soggetti così Tipo In questo modo No In qualche modo Qua probabilmente Deposit Ok Dovrebbe funzionare Vediamo un po' Ehm Bene Ah ok Il lock Sì Sì Dice protegge da qualcosa Va bene La cosa ci sta Perfettamente Il problema Sta nel fatto che Mi sa che non posso fare Comunque niente A prescindere Quindi Yeah Biometric card Fantastica Anche perché non ce ne sono altri Guardate Un po' Se vogliamo craftarci altro Non esiste Cioè Wow Grazie Va bene A parte questo No problem Per quel Per quel coso Questa parte verrà bloccata Ovviamente questa parte Perché Anche perché Non possiamo andare avanti Ragazzi In nessun modo Anche se qualcuno mi ha detto Molissimo potresti fare cose diverse Tipo Aprire il config Penso che Farò così Nel senso che Farò tante cose belle E Per il momento comunque Ci accontentiamo di fare queste cose Allora mi servirà Fruit salad Ehm Si fa In questo modo Abbastanza facilmente Oh Anche con Con sta roba Con sta apple Abbiamo un sacco di apple Non so quanto me ne servono Tipo 15 Ok No 4 me ne servono Ok poi La spring Spring salad Si fa in questo modo Carote Questo 4 Dovrei vedere la lattuga Tipo Qui dentro Sicuramente C'erò la lattuga 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 Eccolo qua Perfetto Ok Stiamo facendo cose belle Voglio completare queste Queste perché sono quelle più carine Perché mi danno Un sacco di cibo Quindi perché no Ok queste fatte Poi cos'erano Le mixed E le citrus Allora mixed Non so come si possono fare Diamo un po' Ok queste si fanno Eh Stesso modo Probabilmente Però la bo Eh Ah Probabilmente devo fare tipo così Ok questa E Oh Salad dressing Dovrei fare così Ehm Non so bene come si potrebbe fare Inizialmente Ehm Oh Con due spice E che diamine c'è Mezzo poi Ah il maio Giusto il maio Non l'ho fatto Ok un maio Oddio ma devo fare un sacco Ne devo fare Oh funziona così Normalmente Sal Sale Ok no Non si fa nemmeno così Sal Ah un juicer Ok juicer Tranquillamente Ce l'abbiamo Perfetto Vediamo un po' Ne ho fatto tanto uno Ne ho fatto Oddio Ne serve un paio Spice Quante ne ho? 23 Ne servono 4 Quindi in teoria Si potrei anche farlo Sinceramente Non dovrebbe essere un gran problema Ehm Suficientemente mi servono Un sacco di uova Ma un sacco davvero E noi ce l'abbiamo Un paio di uova Quindi potremmo usare anche il tofu Sinceramente Quindi yeah Bello come cosa Ok Vediamo un po' Ne servono 3 Ok fatto tutto Perfetto Ehm Mi servirà Quindi abbiamo detto Le salad Vabbè Basta scrivere salad E mi serve La spring Non l'abbiamo già fatta Mi serve la mixed Giusto? Si mixed Ok Salad dressing In questo modo Mi servirà il juicer Maledetto Cosa che Non li prende Velocemente 1 2 3 Ottimo E adesso salad Mixed Facciamo mixa direttamente Si facciamo prima Ok Eccola qua La nostra mixed 1 2 3 Eh 1 Beh cos'altro Devo mettere in mezzo 2 3 E in qualche modo Di metterci qualcosa 4 Ok Fatto anche questo Mi servirà adesso Citrus Tutte cose Sono facilissime Da fare Però non danno manco nulla Quindi Giustamente Ho limone Ho lattuga Ok dovrò usare Tipo cosa di bello E Ok mi serviranno Un bel po' di lattughe E Ok Ho capito cosa mi serve Mi servirà lattuga E un qualsiasi frutto Quindi 4 lattughe E un frutto qualsiasi Io andrei per le Boh Possiamo fare uno di questo 2 3 plum Tranquillamente Dovrebbe andare Sperando Magari ho limoni Anche si C'ho un paio di limoni In giro Quindi potremmo usare Anche quelli Ok Fruit salad E fruit Scusami E fruit questa Ah no E citrus Ah è vero Porca vacca Sbagliato Lemon Forse Forse c'ho limoni Sapete No non c'erò Limoni Cioè Ce li ho Limoni Ma ce li ho Fuori Andiamo un po' Andiamo a ricoprare Un paio di limoni Ragazzi Spettate I miei limoni Dovrebbe essere Questi qua Ok Ho sia i lime Che i limoni Quindi Yeah Un sacco di saloba Lo possiamo prendere Ok Perché no Però ho anche la magnet Così Giusto perché Perché di solito La uso E quindi facciamoci Le nostre belle insalate Che sono tipo Yeah Bruttissime E anzi Non so voglio vedere Se è finito qui Ok Ha finito qui Il nostro film tofu Anche Perfetto Yeah Ok Quattro di questi Citrus Ottimo Abbiamo tutto necessario Quindi adesso Bam Completate anche questo Io prenderei Sta roba Oh mi è dato un po' di butter Mi serviva il butter Ok Sta cosa sarà Difficissimo da fare Anche questa Per questo Non so se posso scavare Magari sì Che tofu Ah è vero Mi servivano Sì che tofu Mi servivano E poi la seconda tofu Dove far diventare normale Vabbè comunque mi servirà Altro tofu Ma quello ormai Lo sappiamo Allora Io avrei un'altra idea Un'altra cosa da fare Però mi dovete dare Qualche minuto Per prepararmi Quindi arrivo subitissimo Appena abbiamo il tutto necessario Quindi datemi due minuti E arrivo Ok ragazzi Sono pronto Guardate quanta roba C'ho in inventario Pam No Dai due pezzi di albero Sto scherzando Cos'è un troll questo Allora Mi mancano tanto due pezzi di albero Vabbè penso che li abbiamo Qui dentro Voglia Sicuramente ci abbiamo qui dentro Eccoli qua Due Ok Let's go Bam Manosubit completato Dovrei avere tipo un reader Ah freehead chicken Pensavo peggio Va bene Anche questa questione è andata Ora siamo messi Abbastanza bene Mi servivano Stanto la gravel La sand La gravel è un po' complicata da prendere La sand dovrei già avere Aspetta che la sand È vero che la sand già ce l'ho Quindi in sostanza potrei Comunque fare cose belle Aspettate che Sand 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 Cioè dovrei avere Sand Oh 300 No Guardate che lascio un attimo questa roba Ehi Angel ring Mi servono quelli Guardate che Prendiamo da capo il nostro angel Angel ring Ok Sand Dovrei avere tipo abbastanza di sand Ok Vediamo un po' Ehi Bam 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 Cioè vanno al subito Ok E invece di gravel Ne abbiamo Un po' pochetta Cioè tipo ne manca giusto Una quarantina Però per il momento sembra andare tutto a posto Quindi Completeremo anche questo Nel prossimo episodio Vedo di fare magari una farm per questa cosa E Mancano ancora smeraldi Sfortunatamente Quindi yeah Quali bisogna farli Allora ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Ricordate Lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto Condividete su Qualsiasi piattaforma Esista in questo mondo Esatto Esistono tante piattaforme su questo mondo Non c'è solo youtube Lo so che voi state sempre su youtube Però Ci sono altre cose E prima di andare via Vi faccio vedere una cosa Cosa c'è qua Bam Pieno Bam Bam Aspettate che ce la faccio Bam Pieno Tanta roba vero Tanta 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 Bene ragazzi Nel prossimo video Ciao ciao